Al Palenaudi di Moncalieri scatta il campionato 21-22, il dodicesimo consecutivo in A1 del basket Lemura-Lucca, da affrontare la corazzata Schio che sulla carta è partita degna del miglior Tom Cruise da Mission Impossible. Una sorta di Everest da scalare per la squadra di coach Luca Andreoli che si presenta quasi al gran completo. Manca solo Sidney Wills e non è poco. In campo l'altra americana, Blake Dietrich, sarà protagonista. Dall'altra parte uno Schio del neo-coach Georgios Di Kaiolokos che pur lamentando qualche assenza pesante ha un roster a dir poco di sontuosa cifra tecnica e lo vedremo. La partita vede l'avvio perentorio delle Scledensi che si portano avanti 14-7, punteggio molto basso nel primo quarto. Ma Blake Dietrich, americana di talento e di regia, scuote la squadra lucchese che recupera e chiude all'intervallo lungo clamorosamente avanti 25-23 da non credere. Alla ripresa però Schio cambia marcia e poi ha più cambi e qualità, seppur priva di Grudà, Mesdag de Pretto in panchina solo per nordifirme di Collier. Schio fa valere nei secondi 20 minuti la differenza di fisicità, 47 rimbalzi contro il 32 di Lucca e la profondità di un organico che nonostante le sopraccitate defezioni resta sterminato. Così quasi per inerzia lo squadrone Veneto a lungo e per Luccore è tutto più complicato. Finisce 68-46 per il Famila Schio, ma Lemura esce comunque a testa alta. Da segnalare 15 punti di un ottimo Blake Dietrich e 10 della ciaccata, ma sempre valorosa capitana Maria Miccoli. E tra poche ore arriverà a Lucca una certa Sidney Whiz. Chissà se la vedremo in campo già domenica prossima, ore 17, nel vernissaggio stagionale del Palatagliate, niente meno che contro la Reier Venezia, campione d'Italia. Sarà un altro bel test per capire di che pasta è fatto questo Gesam Lemura delle giovani e del rinnovamento.